Volevo un attimo andare da Morgan per capire questa sera al termine della trasmissione cosa farà? Ma allora, premettendo che sono anche un po' affari miei Gigi, io vado all'Osteria Montemolin, che è un ristorante, pizzeria, Somma Campagna, in quelli Somma Campagna ci sono stato una volta a provare, e niente, ci torno sempre volentieri per mangiarmi una pizzetta, oppure qualche volta, che ne so, fanno anche delle cotolette alla milanese, che sono stupende, spaghetti allo scoglio, col vero scoglio dentro, spaghetti al puntile, col vero puntile dentro, tanta buona roba e soprattutto una compagnia gradevole, col Simone, la Silvia e tutti gli altri. Ecco, avrete capito che è il nostro sponsor, vero Giulia? Esatto, esatto. Scusa Gigi, un'unica cosa, mi ha chiamato prima il Simone, aspetta sempre quel Deca che gli deve. E c'è anche Galeazzi che ha lasciato un conto, mi ha detto Simone, Galeazzi che ha lasciato un conto. Eccoci allora, buon pomeriggio a tutti quanti, assolutamente, Osteria Montemolin, non vedo inquadrate né le immagini né la costata, ma perché me la sono magnata, quindi ovviamente non è possibile inquadrarla, comunque anch'io stasera ci sarò, spero che Simone non mi chieda gli avretrati, perché direi che sono veramente importanti, e comunque per salutare anche Filippo Rando, devo dire che a me invece il campionato spezzatino piace molto. Grazie!